Attori comici e volti noti della tv italiana in scena per i minori della Bielorussia, sabato prossimo al Teatro Palapartenope torna la sesta edizione dello spettacolo di beneficenza Un mondo di solidarietà, promosso dall'associazione di volontariato Raggio di Sole, che da dieci anni offre cure e assistenza ai bambini bisognosi e che vivono in condizioni di salute precarie. Credo che sia una doppia opportunità quella di manifestare solidarietà, appoggio, ma anche quello di sensibilizzare una società civile che si rende sempre più responsabile dell'infanzia disagiata di bambini stranieri ma anche di bambini italiani. Organizzata da Diego Di Flora con l'attrice e ambasciatrice Unicef Maria Grazia Cucinotta, anche quest'anno madrina della manifestazione, la serata sarà condotta dalla showgirl Maria Mazza con il giornalista Alessandro Cecchi Paone. Tra gli ospiti che si alterneranno sul palco, anche il cantante e conduttore Francesco Facchinetti e le attrici Maria Bolignano e Rosalia Porcaro. L'incasso sarà devoluto a 60 bambini della Bielorussia che rientrano nei progetti di solidarietà post-Cernobyl e servirà a pagare i biglietti aerei per consentirgli di trascorrere a Napoli le vacanze natalizie in altrettante famiglie napoletane. Perché un mondo di solidarietà? Perché l'associazione Raggio di Sole è la prima a mettere i soldi per i bambini della Bielorussia, nonché spesso anche per i bambini di Napoli oppure anche per Messina quando c'è stata l'alluvione. Per cui il fatto che una famiglia singola si prenda cura di tanti bambini sicuramente ti fa venire voglia di partecipare. Poi perché è un evento che crea spettacolo. L'appuntamento è per sabato 20 luglio alle 21 al Teatro Palapartenope. Ci sono ancora tanti biglietti, il Palapartenope vi aspetta. Potete acquistare biglietti sul circuito Go2 oppure acquistarli al teatro quella sera con noi. Io volevo ringraziare soprattutto gli ospiti che intervengono a questa manifestazione perché intervengono tutti senza cachet e questa cosa ci fa veramente molto onore. Da Maria Grazia Cucinotta, Beppe Brai, da Francesco Facchinetti, i ragazzi dei Talent che comunque vogliono essere con noi in quella serata. Grazie a tutti.